Musica Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti, riaccoci qui anche oggi ore 13.30 come sempre per parlare insieme di Fantacalcio Ieri abbiamo visto il nuovo format Chiedilo al Prof, vi ho fatto un po' vedere come funziona il processo logico che utilizzo per rispondere ai vostri dubbi legati agli scambio e dubbi di formazione Oggi invece torna ovviamente il video dedicato agli indici di schierabilità Andremo a vedere partita per partita in questa dodicesima giornata di Serie A quali potrebbero essere gli indici di schierabilità di ogni singolo giocatore Domani invece ovviamente torneranno le nostre top 11 Già da questo pomeriggio torneranno le live sia qui sia sulla piattaforma Viola per conoscere tutto il palinsesto Basta essere o nel canale Telegram gratuito e libero a tutti, il link lo trovate nella sezione community qui su Youtube Oppure lo trovate nel gruppo broadcast Instagram, anche lì ovviamente vi ho pubblicato tutto il palinsesto della giornata odierna Stessa cosa poi farò per la giornata di domani Detto questo se non l'avete ancora fatto mi raccomando like al video ma soprattutto iscrivetevi qui sotto al canale che è sempre gratis E ormai lo possiamo dire è gratis sì la registrazione su Starz e finalmente il gioco è arrivato Oggi infatti grande giorno, uscirà il gioco, ormai sono stati diciamo comunicati i primi dettagli Poi ovviamente uscirà anche tutto il regolamento ufficiale, questa finalmente sarà la prima giornata con il gioco di Starz Per chi non lo sapesse che cos'è Starz, Starz è la prima piattaforma in Italia dove possiamo acquistare i token dei nostri calciatori preferiti E da questa settimana abbiamo anche la possibilità di giocare con questi token A fronte del primo deposito di almeno 20 euro ne riceverete 15 in omaggio Approfittate di questa promo perché non è detto che continuerà per sempre Quali sono i giocatori di Starz? I nostri preferiti Abbiamo Scamacca, abbiamo Frattesi, abbiamo Immobile, abbiamo Nico González Ci sono tanti giovani interessanti, Bove, Marchizza, Karen Secchi Insomma c'è l'imbarazzo della scelta e tanti altri nomi devono arrivare Vi aspettiamo, grazie mille Detto questo adesso ci andiamo a spostare su Fantalab e partiamo con la prima partita di domani Vi ricordo che domani non si inizia a giocare alle 20.45 ma già alle 18.30 Andiamo Ed eccoci qui, partiamo subito da Salernitana-Sassuolo Che sarà appunto la prima partita di domani delle 18.30 Che partita mi aspetto? Come vi ho detto già un po' di giorni fa vedo un Sassuolo leggermente favorito Anche se per quanto riguarda le due difese onestamente non mi fido di nessuna delle due Ci sono giocatori di cui mi fido meno, ci sono giocatori di cui mi fido di più Ma tendenzialmente sono giocatori che non vorrei schierare a meno che non sia obbligato Nella mia squadra di Fantacalcio Onestamente più di un 6 ad alcuni e più di un 5-5.5 non mi sento di dare Discorso diverso invece per i giocatori offensivi delle due squadre Perché ad esempio un Toshvet potrebbe dare continuità a quanto di buono fatto nella scorsa giornata Bairami potrebbe essere una bella scommessa Così come Lauriente che è un po' che sta mancando dal tabellino dei marcatori Mentre ovviamente Berardi è la certezza, lo andiamo a consigliare E Pinamonti potrebbe anche lui essere una bella scommessa per questa giornata Ora ovviamente non vi vado a mettere tutti i giocatori che ho detto scommessi in scommesse Se no poi a livello grafico ci si capisce poco Però tanto poi domani usciranno le top 11 e questi giocatori li rivedrete consigliati Per quanto riguarda la Salernità nel discorso è abbastanza analogo Qui anche in difesa mi fido veramente poco dei giocatori in ottica fantacalcio e non solo Qualche chance in più la voglio dare a Candreva ADA che sono i due giocatori che hanno qualche possibilità in più di fare bonus Però onestamente non mi sento di metterveli tra i consigliati Per quanto riguarda invece gli sconsiliati vale il discorso fatto poco fa Ovviamente vi metto da una parte e dall'altra due centrali Giusto per darvi l'idea appena esposta sulla poca affidabilità delle due difese E ovviamente non può mai mancare, ormai lo sapete, è tradizione del canale Questo 3 a 3 soldi, spetterà a lui ovviamente smentirci Pronostico, vedo un Sassuolo vincente ma un gol lo potrebbero prendere 2 a 1, 3 a 1, facciamo 2 a 1 Andiamo avanti e passiamo a Genoa Verona Inizio a mettere una vittoria di Cortomuso per 1 a 0 Consigliato Gudmundson Malinowski bella scommessa a sinistra Martin che qui non viene messo ma io lo metto tra le scommesse Perché potrebbe anche giocare Nel Verona difficile puntare su qualcuno Magari un Duda può essere una bella scommessa Insieme a Folo Ruscio che abbiamo già visto bene la scorsa giornata Consigliati al 100% delle Verona? Onestamente no Alzo un po' Martinez perché comunque in casa il Genoa può fare bene Dietro proviamo a dare una chance fiducia a Dragusin Basket altamente schierabile in ottica modificatore Tutti gli altri diciamo che chi più chi meno siamo intorno al 6 Badeli fantacalcisticamente mi sento di lasciarlo in rosso Strottman più di un 6 non gli do Malinowski invece merita un 6,5 Gudmundson ovviamente si va a prendere un 7,5 Nel Verona posso essere abbastanza d'accordo con questi voti in rosso Tranne che quello di Yen che fin qui comunque è stato uno dei pochi a salvarsi Su Faraoni e Doig io resto basso Si può dare un 5,5 a Faraoni Magari un 5,5 a Doig Per renderli coerenti però fin qui gli estrani del Verona molto male Duda come vi dicevo può essere una bella scommessa Forunson idem Bonazzoli da ex avversario nel derby Magari si può meritare un 6 Diuric difficilmente mi sento di dargli una sufficienza in ottica fantacalcio Occhio Angonge dalla panchina potrebbe essere interessante Però più di 6 anche a lui non mi sento di dargliela E a Ciacciua anche lui 6 Basta questi sono gli indici Qui al di là di Gudmundson Non ci sono giocatori da schierare al 100% Lecce Milan Che partita sarà per il Milan? Difficile da dirsi perché comunque Arriva da una bellissima prestazione in Champions Ma allo stesso tempo Arriva da un paio di prestazioni molto deludenti in campionato Il Milan è ovviamente favorito Anche perché contro c'è un Lecce che forse sta peggio Anzi sicuramente sta peggio di questo Milan Nell'ultima giornata contro la Roma Ha buttato via praticamente la partita negli ultimi minuti Io credo che il Lecce abbia anche la possibilità di fare un gol Il Milan deve stare attento Però diciamo che Magari un Milan di misura Ecco ci potrebbe anche stare Io non credo che Leao farà lo stesso tipo di partita Purtroppo Che ha fatto contro il PSG E questo fin qui è un po' il suo grande limite Allo stesso tempo però Mi piace pensare che un Ciucuese Possa sfruttare magari lo spazio Concesso lì dall'assenza di Pulisic E in generale il Milan comunque Possa fare una buona partita Ecco Anche perché Onestamente in questi tempi Per vincere contro il Lecce Non serve fare una partita come Contro il PSG Basta Basta molto meno Ok? Direi che più o meno Comunque tutti sufficienti Gli indici di schierabilità del Milan Nel Lecce La difesa io la eviterei Poi qua Anziché 4.7 Magari si può dare un 5.5 Per differenziare un po' Baschirotto dagli altri Però diciamo che In linea di massima Sono nomi che io tenderei ad escludere Contro il Milan Non mi aspetto bonus Da Ramadani Kaba Eccetera eccetera Astrefezze e Khristovic Un 6 di fiducia Glielo posso anche dare Se non abbiamo grosse alternative Strefezze e Khristovic Ci sono comunque due buone scommesse Per quanto riguarda il resto Insomma Nel Lecce diciamo che Non vedo nomi Consigliabili Poi ovviamente ragazzi Potrebbe anche segnare Ramadani Potrebbe segnare Dalla panchina Magari Piccoli Eccetera eccetera Ma se dobbiamo Fare un discorso Di probabilità Di potenziale E quant'altro Questa giornata Guarderei altrove Ecco Ok Ok ragazzi Questi sono I nomi più Diciamo Schierabili Per quanto riguarda il Milan Juve Cagliari Vedo una vittoria Della Juve Magari questa volta Non di Cortomuso Perché io credo Che la Juve Abbia il potenziale Per fare almeno Due gol Al Cagliari E perché no Potrebbe arrivare Una partita Da 2 a 0 2 a 1 Magari un altro Clean sheet Potrebbe essere La partita Finalmente di Vlaovic Ma secondo me Sì Così come potrebbe Essere la partita Di Chiesa I due attaccanti Della Juve Ovviamente Vanno schierati Poi non sono D'accordo Con questi 8 9 7 Punto 9 Un po' troppo Alti Io A Locatelli Do un 6 A McKennie Do un 6 A Costi Ci do anche Un 6 e mezzo Amiretti Un 6 Punto 2 Ci può stare Cambiaso 6 Rugani 6 Gatti 6 Bremer 7 Scesni 7 Se avete il mod Ovviamente Gatti Può diventare Un 6 Punto 2 Rugani Può diventare Un 6 Punto 2 Cambiaso Può diventare Un 6 Punto 2 Ok Qua dipende Ovviamente Poi Dalle regole Del vostro Fanta Nel Cagliari Consigliare Di giocatori È dura È dura Perché secondo me Il Cagliari A Torino Perde Se si vuole Provare a fare Qualche scommessa Oristanio Può essere un bel nome L'Uvumbo Altrettanto Poi Onestamente Sì Non mi sento Di dare Dei 4 Così come L'algoritmo Di Fanta Lab Però Tutto sommato Diciamo Che Ci sta Non schierare Difensori Del Del Cagliari Ecco Goldaniga Ad esempio Lo sconsiglierei In linea di massimo Ok Va bene Ragazzi Qua direi C'è poco Da dire Occhio ovviamente Dalla panchina A Milik E Moise Can Potrebbero partire fuori Ma comunque Anche da subentranti Si possono schierare Paboletti Viola Ok Scommesse Scommesse nel Cagliari Ripeto Oristanio Può essere un buon nome Su cui puntare Dovessimo puntare Su una scommessa Della Juve Perché no Magari potrebbe essere La prima volta Del gol di Bremer Perché no E Kostic Diciamo che Potrebbe ripetersi In chiave Assist Passiamo a Monza Torino Io questo Già L'ho detto Nell'altra L'altra sera In live Con i Fantastici 4 Io vedo pochi gol Vedo pochi gol 1 a 0 1 a 1 0 a 0 Proviamo a mettere Un 1 a 1 Cioè Partita con Grande equilibrio Con pochi gol Non mi stupirei Se finisse 0 a 0 Questo match Attenzione Detto questo Comunque I portieri Sono altamente Schierabili Di Gregorio 6.7 Milinkovic Lascio il 6.4 Buongiorno È una certezza Da schierare sempre Vlasic Vediamo se darà Continuità Quanto ha fatto Fin qui Nell'ultima giornata 6.1 Zapata deve Trovare il riscatto 6.5 Sanabra 6.1 Ci sta Linetti e Ilic Li lasciamo così Tamez ha fatto bene Lasciamolo così Zima Lazzaro E Bellanova Più di 6 Non glielo do Nel Monza D'Ambrosio Ci sta in rosso Ultimamente malino Marli e Caldirola Più di un 6 Non glielo do Chi re Coppolo Fin qui bene Ha fatto un paio di assist Ci sta Riprovarlo anche Da Scommessa Ciurria si deve Un po' svegliare In ottica bonus Quindi lo lascio Sul 6 Pessina Rigorista Merita un 6 E mezzo Colpani Nome garanzia Nel Monza Si mette Sempre e comunque Vignato Altra bella Scommessa Linetti In ottica bonus Appunto Sconsigliato Colombo Si può schierare Assolutamente Anche lui Si può consigliare E Sarà interessante Capire Il duello Colombo Buongiorno Perché Colombo Sta facendo bene Ma allo stesso tempo Buongiorno Solitamente Annulla Gli attaccanti Avversari Un po' come faceva Schurse l'anno scorso E Bremer Due anni fa Il Mr. T Il Mr. T Di quest'anno È buongiorno Vediamo Vediamo Sono curioso Di vedere questo duello Colombo Buongiorno Entrambi Sulla carta Consigliati Però uno dei due Potrebbe fallire Napoli Empoli Qui vado abbastanza Rapido Napoli 3-0 L'Empoli Poca roba Fin qui Il Napoli Per quanto abbia Dei problemi A livello di equilibrio In questo tipo di match Non dovrebbe tradire Qui Resto sul 7 Tameret Di Lorenzo 7 Ostigard E Nathan 6 e mezzo Olivera 6 e mezzo Zambo 6 e mezzo Perché comunque in ottica bonus Non benissimo Fin qui Lobotka 6 e mezzo Zellinski Da rigorista 7 Consigliato Politano In questo momento Ragazzi Non si può Non mettere Consigliato anche lui Raspodore E Kvara Questi quattro I quattro Trenori Del Napoli Vanno tutti schierati Assolutamente Ok Do un decimale in più Un punto decimale in più A Kvara Giusto per Differenziarlo Da Politano Nell'Empoli Ragazzi Nell'Empoli Non tocco nulla Se non sei a Caputo E sei a Baldanzi Ecco Tutto il resto Si può lasciare così Cioè Sono nomi che io Non andrei mai A schierare a Napoli Onestamente A meno che Non sia costretto Occhio a Lindstrom Che dà la panca Può essere Una bella Scommessa Magari coperto Da subentrante Così come Simeone Ok E sconsigliato Metto Luperto Per dare Così Un simbolo Un segnale Alla Al fatto che I giocatori Soprattutto della difesa Dell'Empoli Tenderei ad evitarli Ovviamente Anche Beriscia Fiorentina-Bologna Questa può essere Veramente una bella partita Non so Chi vincerà Tra le due Però io Ci vedo abbastanza Bonus 2-2 Perché no Bologna Ha una squadra che gioca La Fiorentina anche Sono due squadre che Non attendono Non aspettano L'avversario I giocatori offensivi Qua li vedo bene Zirkeze da una parte Nico González Dall'altra Buonaventura Ecco Questi tre nomi Insieme a Ferguson Sono sicuramente I nomi Che andrei a consigliare Mi aspetto qualcosa in più Da Orsolini Che nelle ultime giornate Ha fatto bene Ma non benissimo In ottica bonus I due portieri Vedo leggermente Meglio Skurupski Però Non sono nomi Che andrei a schierare Così a curo leggero Questa giornata Milenkovic Se gioca Male Perché fin qui Ha sbagliato Veramente tanto Martinez Quarta Invece Bene Così come Biraghi Che in ottica bonus Può sempre fare qualcosa Da Artur Da Duncan Non mi aspetto Un granché Così come Da Iconé Beltran Se giocasse Titolare Sarebbe anche interessante Proviamolo a mettere Come scommessa Nel Bologna Nel Bologna A posce Ci sta Il 6.2 Ma lo abbasserei Al 6 Giannis Eviterei Calafiori Senza infamie Senza lode Così come Froiler Ibish 6.2 Mi sembra 7.2 Mi sembra Un po' esagerato Orsolini Ferguson Salemekir Zirkze Ci stanno Sono i nomi Che possono fare meglio Salemekir 6.4 Tutto sommato È corretto Passiamo A Udinese Atalanta L'Udinese Arriva da Una serie Di risultati Positivi L'Atalanta È superiore Secondo me Potrebbe anche Succedere Che l'Atalanta Vada a sbancare Nel campo Dell'Udinese Magari soffrendo Perché comunque L'Udinese Dietro Si Si chiude bene Però Diciamo che L'Atalanta È superiore Sarà interessante Poi vedere Quello che succede Anche Stasera In Coppa E questo vale Anche per le altre Squadre impegnate In campo europeo Però Tutto sommato Atalanta favorita Anche se In trasferta Qui Un 6.2 Amusso Ci sta Così come Ascalvini Jim City E 6 Assolutamente Sì Colasina Ci va bene Così Gli darei Un 6.5 8 Mi sembra esagerato Atebor 6 Schierabile Ma non consigliato Derun Qualcosina in più Ederson Merita fiducia Copminers Top Che si schiera sempre Lukman Ci sta Scamacca Ci sta Assolutamente Sono questi I nomi Migliori In questo momento Nell'Atalanta Nell'Udinese Dove si sconsigliarono Un paio di nomi Probabilmente Farai il nome Di Masina Lì dietro Che si è pericoloso In chiave bonus Quindi magari In qualche difesa 3 Può avere anche un senso E allora Sconsiglierei Wallace A testimonianza Che in questo momento Ci sono tanti giocatori Nell'Udinese Che In ottica bonus Servono a poco E magari Un Perez Ecco Poi I giocatori Dell'Udinese Sono sempre particolari A livello difensivo Perché Magari ti regalano Un bonus Sporadico Qualche volta Ma poi ti prendono Dei voti Però Diciamo che Non andrei a schierare Né Perez Né Masina Se ho delle alternative Più credibili Arriviamo al derby Io qui resto Quirente Con quanto ho detto L'altro giorno Lazio in rimonta 2 a 1 Gol di Immobile Zaccani È in forte dubbio Quindi Io lo metto Nelle scommesse Perché Pensavo che Potesse fare bene Però effettivamente Se poi non gioca Il discorso Muore lì Detto questo Immobile consigliato Magari 7 e mezzo Troppo Però Ci può stare Pedro È un nome da derby Ci può stare anche lui Luis Alberto Si schiera sempre Consigliato Felipe Anderson Proviamo a dargli fiducia Rovella Guendosini Aspetto pochi bonus Marosic Così così Romagnoli Così così Ma un 6 E lo diamo Patrick Anche Lazzari Altrettanto Provedel Leggermente meglio Di lui Patricio Non mi aspetto Grandi prestazioni Dalla difesa della Roma In questo match L'assenza di Smalling Peserà ancora Da Cars Dop Più di un 6 Non gli darei Paredes E Cristante Qualcosina in più di un 6 Ci sta Awar 6 e mezzo Zalinski 6 Di Bala 7 Lukaku 7 Ovviamente Gli attaccanti Di Bala Lukaku Immobile Consigliati Luis Alberto Anche Sconsigliato Da un lato Marosic Ci può stare E Nella Roma Mancini Potrebbe prendere Un altro giallo Non mi fa impazzire In questo momento Mancini Arriviamo poi A Inter Frosinone Frosinone Ha il potenziale Di fare un gol A San Siro Sì Però l'Inter Ha il potenziale Di farne 2 o 3 A questo Frosinone 3 a 1 Inter Consigliati Ovviamente Lautaro Tulram Tullram Cialanolu E anche altri Però Non posso neanche Consigliare 11 giocatori Nell'Inter Magari 8.7 No Però Comunque Sommer Ci sta Un 6.9 Darmian Ci sta Un 6.5 A Cerbi Merita Qualcosina In più di un 6 Bastoni 6.5 Vediamo se gioca lui Danfri 7 Di Marco 7 Barella 6.5 Cialanolu 7.5 In questo momento Bug E Almandra Ma anche al Classic Mkhitaryan 6.5 Turram 7 Lautaro 7.5 Turram Lautaro 9 Se non diamo 9 A Lautaro A chi lo diamo Nel Frosinone Turati Lascierei perdere Oiono Colli Romagnoli Marchizza Anche Renier 6.2 Può essere una bella scommessa Così come Ibra Che andrei a mettere Appunto Nelle scommesse Che bello Rivedere un Ibrahimovic Al Fantacalcio Anche se Ovviamente Non è Il nostro Ibrahimovic Di tanti anni Sule Si può rischiare Anche a San Siro A patto di non avere Grandi alternative Altrimenti Stavolta Si può anche Lasciare fuori Per alcuni Non sarà facile Questa giornata Barrenecea Qualcosina in più Glielo darei Mazzitelli Anche Sugli altri Resterei Abbastanza Basso Ok Dalla panchina Qua è importante Perché Nel Frosinone Vabbè Qui Lirola Monterisi Non sono nomi Propriamente Schirabili Anche se Dovessero Poi giocare Titolari Così come Brescianini Lì davanti Lì davanti Kasok Vernaz E Bidau Che dire Caio George Non credo sia la partita giusta Per impattare anche dalla panchina De Frai Dovesse giocare Qualcosina in più del 6 Carlos Augusto Si schiera sempre con copertura Frattesi Si schiera anche lui Con copertura Occhio A Sanchez E soprattutto Al ritorno Di Arnautovic Che finalmente Potrebbe iniziare a dare Un po' di respiro A Turam E a Lautaro Martinez Sconsigliato Romagnoli Ma in generale Anche La difesa Del Frosinone Ragazzi Questi erano i miei Indici di schierabilità Li trovate su Fantalab Ogni settimana Se avete l'abbonamento Premium E l'abbonamento A uno dei miei canali Ovviamente poi Se ci sono delle novità Almeno fino alla mattina Delle formazioni Io tendo sempre Ad aggiornarvi Io vi saluto Vi ringrazio Vi do appuntamento Oggi pomeriggio Alle live Ci rivedremo Sia qui Sia su Twitch Sia sul mio canale Sia su quello di Fantatvplay tvplaycalciomercato.com E fantacalcio.it Andremo a vedere insieme La rubrica The Hopeful8 Grazie mille Mi raccomando Like Mi raccomando Iscrivetevi al canale Se non l'avete ancora fatto Io vi saluto E ci vediamo Al prossimo video O alla prossima Live A più tardi Ciao I'm looking in the mirror So foggy But I've never seen clearer I don't really think